Prima della fine della gara, perde palla, punta l'area, ha spazio per tirare, rete, splendida rete! Allenatore che ha fatto benissimo a metterlo in campo, grande sostituzione. Grande coordinazione, grande traiettoria, si è insaccato sotto la traversa. Un gol che non cambia la sostanza di questo match. Sì, ma le squadre come questa hanno sempre fame di gol e continuano a spingere fino alla fine. Grazie!